... Incidente oggi, mercoledì 11 luglio, poco prima delle 18.30, in via Valperga, angolo via Silvio Pellico, Busano. A scontrarsi una forfiesta e una moto Yamaha 600. Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Croce Bianca del Canavese e della Croce Rossa di Castellamonte, nonché i carabinieri. L'impatto è stato forte. La moto è rimasta incastrata nella vettura vicina alla ruota. Il centauro, residente a Rivara, è stato subito soccorso e medicato sul posto. Pare che abbia riportato la frattura di una spalla, non è in pericolo di vita. La Croce Bianca l'ha trasportata all'ospedale di Ciriè. Illesa la donna, una commerciante di Rivara, che si trovava alla guida della vettura. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Mati. Grazie. 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 Grazie.